Musica Ed ora all'incipit della serata, il dialogo diretto fra Nino De Matteo e Luigi De Magistris. A voi la parola. Ciao Nino. Ciao Luigi. Benvenuto a Napoli. Bentrovato. Ci diamo di gridere tu perché ci conosciamo da tanto tempo. Ci mancherebbe altro. Allora, Nino Di Matteo, attualmente sostituto procuratore nazionale antimafia a Roma, prima componente del Consiglio Superiore della Magistratura, già pubblico ministero a Caltanisette a Palermo, titolare del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Nino, la prima cosa che ti voglio chiedere. È un anno che si è insediato il nuovo governo. A tuo parere, le prime misure messe in atto e quelle annunciate, dalla riforma della prescrizione, le intercettazioni, la punibilità dei bambini, la cartabbia, la riforma degli appalti, stanno rendendo il Paese più sicuro, con meno criminalità, oppure si sta indebolendo l'azione e l'efficacia giudiziaria ed investigativa? Io credo che per analizzare ed eventualmente criticare queste riforme non bisogna fare un errore, quello di parcellizzare il giudizio, cioè di considerarle ciascuna distinta dall'altra o dalle altre. Dobbiamo fare uno sforzo di una visione di insieme e facendo questo tipo di analisi io dico che non stiamo andando nelle direzioni giuste. Intanto, per quanto riguarda la giustizia penale, non c'è nulla che possa risolvere il più grande problema, quello della lentezza dei processi. Anzi, molte norme aggravano ancora di più questo problema. Ma poi si sta creando una situazione ancora più evidente. Intanto le riforme di questo governo vanno nella stessa direzione della riforma cartabbia. Governo Draghi. Governo Draghi. E vanno in una direzione per me chiara. Da un certo punto di vista ridimensionano le armi in possesso della magistratura per quanto riguarda il controllo di legalità sull'esercizio del potere. Quindi sui reati contro la pubblica amministrazione, sul rapporto mafia-politica, sulle indagini sui grandi sistemi. Ci sono delle norme come quelle sulla prescrizione o quelle sulle intercettazioni che di fatto abbassano il livello di contrasto. Dall'altra parte si continua ad avere un approccio giustamente rigoroso nei confronti di altre manifestazioni criminali. Quelle dei criminali da strada che è giusto che debbano essere rigorosamente perseguite. ma noi Luigi ci stiamo avviando verso un sistema con una giustizia a due velocità. Rigorosa, possibilmente efficace ed efficiente, certa volta spietata con i criminali da strada, con i reati tipici degli ultimi della società e invece con le armi completamente spuntate nei confronti dei reati dei colletti bianchi. una giustizia che porta poi a delle conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Oggi ci sono 57 mila detenuti, qualcuno in più, nelle galerie italiane ma soltanto 4-5 stanno scontando una pena definitiva per corruzione a dimostrazione del fatto che certi fenomeni sono sostanzialmente impuniti nel nostro sistema. E a questo proposito, siccome negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni le mafie sembrano aver abbandonato la strategia militare di attacco contro lo Stato, penetrando sempre di più l'andrangheta in questo e quello che ha avuto la strategia più raffinata da questo punto di vista, questa mimetizzazione e penetrazione o comunque meno tritolo e meno munizioni vuol dire che le mafie sono molto più deboli, sono state sconfitte, ridimensionate o sono penetratene con gli anni al di là dei risultati della magistratura e delle forze di polizia molto apprezzabili, sempre di più nel cuore dello Stato mimetizzandosi e utilizzando i proiettili istituzionali per colpire i servitori dello Stato scomodi. Tu che idea ti sei fatto? Da 170 anni il nostro Paese fa i conti con la questione mafiosa e non la riesce a risolvere, non riesce a vincere la guerra nonostante 17 commissioni parlamentari antimafia, nonostante il sangue versato da tanti servitori dello Stato. Un motivo c'è perché la mafia in particolare per la mia esperienza a Cosa Nostra siciliana ha nel suo DNA la capacità di creare, mantenere e implementare i rapporti con il potere, con il potere quello ufficiale, politico, imprenditoriale, economico, finanziario. Allora, la mafia da 30 anni non compie stragi e omicidi eccellenti, però ha avuto sempre una grande tra virgolette qualità, la capacità di cambiare pelle come un serpente, di sapere adattare le proprie strategie criminali alle contingenze sociali e politiche. Lo voglio dire perché questa trasformazione che tu stesso hai evidenziato non è detto che sia definitiva. In fondo, stando alle inchieste dei colleghi di Caltanissetta fino a dieci anni fa era in corso un attentato, la preparazione di un attentato nei miei confronti. È stato ritenuto attendibile il collaboratore che ne ha parlato e sono stati trovati dei riscontri purtroppo molto significativi. Ecco, io non sono convinto che questa trasformazione sia definitiva. In ogni caso, è vero che oggi la mafia spara di meno, che è indebolita da un punto di vista militare, ma volevo riflettere con te su una cosa. È stata indebolita anche grazie al ricorso a una legislazione molto incisiva che ha riguardato la legge sui collaboratori di giustizia, sulle misure di prevenzione patrimoniali, sul 41 bis, sull'ergastro stativo, sulle intercettazioni. Oggi, paradossalmente, questi strumenti che hanno consentito di indebolire l'ala militare della mafia e che gli altri paesi ci vorrebbero copiare, noi li mettiamo in discussione. io credo che abbiamo vinto alcune battaglie, ma la guerra è ancora lontana da una soluzione positiva per lo Stato. Oggi l'economia, anche quella apparentemente legale, è profondamente condizionata dagli interessi mafiosi. Noi non sappiamo più quando andiamo a mangiare una pizza o andiamo a farci una vacanza in un albergo se stiamo contribuendo ad implementare l'attività economica di una cosca che di fatto gestisce quell'attività. Senti Nino, tu insieme ad altri colleghi, ex colleghi, per quanto mi riguarda, sei stato il PM titolare della cosiddetta trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. C'è stata una sentenza in Cassazione, ovviamente non abbiamo il tempo per ripercorrere tutto, ma questa trattativa c'è stata. Che effetti ha prodotto? Io rispondo citando dei dati di fatto che nessuno ha mai contestato. Il primo è la prima dichiarazione che sull'argomento fece il generale Mori quando venne sentito nel 1997 all'epoca come testimone nel processo per la strage di via dei Giorgofili. Il generale disse testualmente sapevamo che Vito Ciancimino l'ex sindaco mafioso di Palermo conosceva Rine e Provenzano. Siamo andati da lui e gli abbiamo detto cosa è questo muro contro muro tra lo Stato e la mafia? Cosa vogliono questi per cessare la strategia stragista che era già iniziata con la strage di Capaci? Venne intavolata una trattativa Ciancimino rispose al secondo di questi incontri che dall'altra parte accettavano il dialogo quindi dire che non c'è stata una trattativa significa oggi smentire le stesse parole di uno degli imputati principali protagonisti di quella fase storica poi ci sono delle sentenze definitive nessuno lo dice c'è una sentenza definitiva della Corte d'Assise di Firenze per gli addetti ai lavori Bagarella più 25 sulle stragi del 93 che attribuisce a quella che chiama improvvide iniziativa del Rosso la trattativa una sorta di responsabilità morale per le stragi del 93 perché e questo è il risultato da tanti processi quando Rina vide che lo Stato si faceva sotto che pezzi dello Stato gli andavano a chiedere cosa volete per far cessare le stragi capì che la sua strategia pagava che più lo Stato dimostrava di piegare le ginocchia più lui aveva la possibilità con altre stragi e così furono concepite quelle del 93 di metterlo definitivamente in ginocchio oggi oggi dopo la sentenza della Cassazione ho letto tanti titoli in cui si dice la trattativa non c'è mai stata ma non è così anche la sentenza della Cassazione che assolve alcuni degli imputati perché per non aver commesso il fatto non nella sua formula dispositiva non dice che il fatto non sussiste quel fatto è consacrato in anche sentenze definitive ed è oggettivamente grave che venga oggi spacciato come una favola giudiziaria e noi ci auguriamo che la magistratura preservi il suo coraggio e professionalità e ne venga mantenuta intatta l'autonomia e indipendenza per andare fino in fondo su tutti i fatti impuniti perché senza verità e giustizia non c'è democrazia ci abbiamo verso la fine però ci sono ancora due tre domande che ti vorrei fare Nino abbiamo avuto una cosa in comune nella nostra vita anche se diversa tu in Sicilia e in Calabria di sentire il peso della criminalità organizzata di tipo tradizionale minacce proiettili lettere anonime e quant'altro ma anche il peso di essere ostacolati dall'interno delle istituzioni a te è capitato quando hai saputo del tritolo che Totò Rina ti aveva preservato e quando anche il Presidente della Repubblica nello stesso tempo Giorgio Napolitano chiese al Procuratore del Generale della Cassazione un'iniziativa disciplinare nei tuoi confronti nel processo trattativo a Stato mafi da uomo da magistrato che si prova a sapere che stai per morire o fisicamente o per mano delle istituzioni che ti dovrebbero proteggere Luigi io credo che anche tu lo sappia che cosa si prova purtroppo ho provato una grandissima delusione un grandissimo sgomento e da allora ho maturato il convincimento in quel momento ebbi proprio la sensazione che alcune volte le istituzioni ostacolano i servitori dello Stato e delle istituzioni io ho fatto anche altri processi prima di quello della trattativa a Stato mafi mi sono occupato della strage Chinnici dell'omicidio del giudice Saetta del cosiddetto via d'Amelio Ter e ogni volta ogni volta ho constatato come prima di essere eliminati dalle mafie quei soggetti quei colleghi sono stati delegittimati all'interno delle istituzioni ecco le vicende che ho vissuto che in maniera diversa ma analoga hai vissuto tu credo che dimostrino e tu hai utilizzato questa espressione anche nel libro che hai scritto recentemente che i proiettili istituzionali fanno male quanto quelli delle mafie e io credo che non bisogna avere paura a raccontare e a riferire di questi fatti bisogna anche capire che raccontare questi fatti non significa gettare fango sulle istituzioni assolutamente abbiamo noi sempre dobbiamo avere sempre un sacro rispetto per le istituzioni ma non per quegli uomini che utilizzano il loro potere istituzionale per colpire chi semplicemente vuole fare il suo dovere Nino un'ultima domanda e poi una più sul lato personale umano che hai provato quando a maggioranza la commissione parlamentare antimafia quella recentemente nominata ha deciso di non indagare sui buchi neri delle stragi tra il 92 e l'inizio del 94 il nostro paese ha vissuto sette stragi le sentenze dimostrano anni e anni di lavoro dimostrano che le une sono legate alle altre che non si può capire capace e via da meglio se non si capisce la strategia stragista del 93 e tantomeno il contrario questa commissione parlamentare antimafia da quello che leggo fino ad ora ha fatto la scelta di non indagare unitariamente su tutto il disegno stragista e così temo che allontanerà la possibilità di ricerca a livello politico della verità perché parcellizzare atomizzare considerare soltanto un episodio la strage di via da meglio e all'interno di quella strage di quelle indagini sulle stragi privilegiare l'approfondimento di una sola pista rispetto a tante altre che possono essere ugualmente se non più significative di fatto significa avviarsi verso un rischio di danneggiare la verità di allontanare la verità e in questo periodo è un rischio particolarmente grave perché sono passati molti anni e un'occasione perduta oggi potrebbe essere perduta per sempre poi il nostro paese da piazza Fontana Mattei Ustica Bologna 92 93 troppo ancora da scoprire una democrazia che non ha il coraggio da arrivare fino in fondo è una democrazia zoppa è una democrazia zoppa non ha il coraggio e non ha forse nemmeno il coraggio di collegare tutti questi eventi stragisti e di capire se ci sono stati io dico che ci sono stati i disegni unitari disegni eversivi eversivi Mino hai mai avuto paura? certo certo come hai convissuto con la paura? ma guarda ho convissuto semplicemente facendo prevalere altri sentimenti non è vero che non ho provato paura quello che diceva Borsellino ho fatto prevalere il sentimento di cercare di fare il mio davere di cercare di rispettare la dignità della toga che indossavo ma se mi permetti anche della mia persona cioè retrocedere di fronte alla paura e fare quello che non si ritiene giusto di fare sarebbe gravemente lesivo della dignità istituzionale e personale penso di essere riuscito a far prevalere questi sentimenti e spero di riuscirlo a fare ancora lo abbiamo detto prima di venire in trasmissione avere come riferimenti ideali Falcone Borsellino ci hanno dato le nostre generazioni quella tensione morale e quel sentimento ideale di giustizia che è riuscito a ridimensionare tutti gli altri sentimenti che abbiamo provato Nicola Gratteri Nino è stato nominato procuratore della Repubblica di Napoli tra qualche giorno prende servizio in città negli ultimi mesi ci sono stati delitti efferati un aumento di criminalità una percezione di insicurezza sempre più diffusa la sensazione addirittura che pezzi di città sfuggano al controllo dello Stato come valuti la scelta di Nicola Gratteri procuratore della Repubblica di Napoli secondo te può essere l'uomo giusto per una città così bella ma anche così complessa Nicola Gratteri ha dimostrato nel corso di una carriera lunghissima di essere un magistrato preparato tenace coraggioso e autonomo da ogni centro di potere magistrato indipendente ancora con un entusiasmo veramente incredibile per il suo lavoro e per la lotta alle mafie e alle illegalità io sono convinto che farà molto bene sono contento della scelta del CSM e sono convinto che farà bene anche perché troverà a Napoli tanti magistrati che hanno già dato a loro volta dimostrazione di lavorare seriamente e in maniera veramente importante quindi io credo che Napoli debba essere in questo momento fiduciosa nel lavoro della Procura della Repubblica della direzione distrettuale antimafia e consapevole che come si legge i problemi di questa città sono caratterizzati da una complessità tale che la lotta all'illegalità deve essere svolta a tutti i livelli dalla repressione militare delle mafie alle indagini che possono riguardare le collusioni tra la pubblica amministrazione la politica e gruppi mafiosi ma anche tutte le indagini che possono riguardare un sistema corruttivo che purtroppo ormai è diffuso in tutta Italia per oggi che il paese Nino ha bisogno secondo me come il pane di punti di riferimento in questo disorientamento pandemia guerre violenza che aumenta tu ti sentiresti di consigliare ai giovani che stanno anche ascoltando queste tue straordinarie considerazioni di fare il magistrato e con che spirito? Io mi sentirei di consigliare e quando vado nelle scuole o nelle facoltà universitarie lo faccio un impegno diretto e personale dico sempre ai giovani informatevi fate valere le vostre idee i vostri ideali indignatevi ribellatevi alle ingiustizie ma non cadete in quello in cui vi vogliono fare cadere che è la rassegnazione e l'indifferenza da questo punto di vista per me un giovane che vuole fare il magistrato è sempre un giovane da seguire con grandissimo entusiasmo soprattutto però se quel giovane si approccia alla magistratura sapendo che non è un lavoro come un altro ribellandosi a quei tentativi che sono in atto purtroppo anche all'interno della magistratura di burocratizzare il lavoro di gerarchizzare gli uffici di creare aspettative di carriera che il magistrato non deve avere io ricordo quando siamo entrati noi in magistratura Luigi noi al limite litigavamo per fare i processi più difficili più rischiosi oggi spesso ci può essere l'approccio di chi non vuole rischiare di bruciarsi di chi è più attento alle statistiche a non sporcare la sua immagine di magistrato a fare delle cose che sono sempre gradite ai dirigenti degli uffici io direi a un giovane impegnati per la magistratura perché è sempre un lavoro bellissimo una missione di servizio nei confronti della collettività ma ricordati sempre che la cosa che noi dobbiamo fare non smettere di ricordare nemmeno per un istante è quella di preservare la nostra autonomia e indipendenza anche all'interno della magistratura grazie Nino io credo che il paese la magistratura le istituzioni gli italiani debbano essere orgogliosi di avere magistrati come te io mi sento orgoglioso di essere stato tuo collega e di essere tuo amico grazie di essere stato qui a Repubblica e in questo confronto spero interessante e utile per chi ci ha ascoltato grazie io che ringrazio te Luigi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti